Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Questa sera torniamo ad approfondire il tema dei trasporti nella nostra regione, avendo ospite in studio di questo lo ringraziamo il Presidente di Tua, Gabriele De Angelis. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera a tutti. Con lei vorrei fare il punto su una serie di temi, il più attuale dei quali è ovviamente quello della settimana che ci siamo lasciati alle spalle, che abbiamo un po' vissuto in tutte le famiglie, come quella del primo giorno di scuola, chi in un ruolo, chi in un altro. Il tema della scuola è una regione anche complessa dal punto di vista delle vie di comunicazione come l'Abruzzo, è sempre legata alla gestione della mobilità dei trasporti degli studenti. Possiamo fare un primo bilancio di questo avvio dell'anno scolastico per quanto riguarda Tua? Certo, per noi l'avvio dell'anno scolastico è sempre un momento molto delicato, che cerchiamo di preparare con la massima attenzione, proprio per fornire un servizio ottimale e adeguato a tutti quanti, tantissime migliaia di studenti che ogni giorno usufruiscono dei servizi di trasporto della Tua. Considerate che nel primo giorno noi abbiamo esercitato quasi 4.300 corse, quindi è un momento nodale per noi, un momento molto delicato, in cui c'è tutta una fase preparatoria di controllo dei mezzi, organizzazione dei servizi e anche quest'anno dai dati che abbiamo siamo riusciti ad ottenere un ottimo livello di servizio, salvo qualche piccolissimo caso, mi sembra soltanto in un caso c'è stato qualche piccolo problema per qualche coincidenza, ma il resto su 4.300 corse è andato tutto come noi ci auguravamo che dovesse andare e questo grazie anche alla professionalità di tutti i nostri autisti degli autobus che anche quest'anno hanno dato prova di una qualità professionale e un attaccamento all'azienda di livello molto alto, perché senza una partecipazione così convinta, un senso di appartenenza così alto, l'azienda non potrebbe riuscire a ottenere questi risultati, ripeto, in una giornata particolarmente complicata. Quindi possiamo ribadire quanto abbiamo già detto in generale, quando abbiamo parlato del bilancio di TUA, che anche per quel che riguarda il servizio scolastico non ci sono stati tagli chilometrici, non ci sono state soppressioni a fronte di una situazione che, lo vediamo quotidianamente, anche per quel che riguarda i costi dei carburanti, ma anche le altre spese vive che può vivere, un'azienda pubblica, in questo caso a maggior ragione, si sta appunto affrontando in questa fase. Non c'è stato nulla che è stato tagliato, Presidente? No, assolutamente no, non abbiamo tagliato neanche mezzo chilometro, anzi quest'anno abbiamo messo anche in pista i primi autobus nuovi dei 100 che abbiamo acquistato a Metano, quindi abbiamo migliorato il parco rotabile e abbiamo svolto delle riunioni preparatorie per questo giorno, anche di confronto con gli istituti scolastici, perché spesso abbiamo dovuto gestire anche qualche variazione di orario che gli stessi ci hanno proposto, quindi riorganizzare tutta la rete dei collegamenti è un lavoro complesso che però i nostri uomini anche quest'anno hanno fatto con un'attenzione certosina, tanto è vero, ripeto, che il risultato del primo giorno è stato più che soddisfacente, quindi mezzi nuovi, nessuna riduzione di chilometri, e siamo riusciti ad accontentare la stragrande maggioranza di tutti i servizi che ci erano stati richiesti dagli istituti di tutta la regione. Bene, in queste settimane peraltro tu è stato al centro di un evento nazionale che si è svolto proprio a Pescara nella sua sede, relativo alla comunicazione per quel che riguarda le imprese, in particolare per quelle di trasporto pubblico locale, perché è uno dei temi più sentiti, soprattutto ora, che ognuno col suo dispositivo può avere sotto controllo anche una situazione monitorata del traffico, della mobilità e anche delle varie opportunità. Una delle piattaforme su cui l'azienda pubblica deve cimentarsi, anche in concorrenza con tutta l'offerta che c'è sul territorio, è proprio quella dell'informazione tempestiva, informazione esterna rispetto all'utenza, ma anche comunicazione interna aziendale. Ecco, su questo i migliori esperti, possiamo dire Presidente, a livello nazionale e anche internazionale che ci sono in Italia, sono convogliati tutti a Pescara. Per noi c'era Massimo Profeta che ha raccolto alcune di queste testimonianze, e poi parleremo con il Presidente per fare un punto anche sui frutti di questo incontro di lavoro. Vediamo. Comunicare il trasporto pubblico locale, come si fa? Come si fa? Non c'è una ricetta unica. Ogni azienda declina le conoscenze, le competenze rispetto a quello che è il territorio. Le esperienze di Torino non sono uguali a quelle di Bologna, o di Venezia, o di Bari, o di Rimini, o di Pescara, ma nonostante ciò, dalle esperienze di ognuno, è possibile imparare qualcosa, arricchirsi, per poter poi definire una strategia propria che possa funzionare sul territorio, sul proprio territorio. Sì, le migliori condizioni. Oggi l'utenza, ringraziando a Dio, inizia ad avere degli standard che sono sempre più elevati, quindi tra le migliori condizioni cerchiamo di garantire una migliore comunicazione. Migliore comunicazione che avviene in un'ottica multicanale, quindi non più solo la comunicazione tradizionale con il classico avviso, ma la comunicazione via social, via app, una comunicazione targettizzata. Anche perché tu presenta oggi anche la propria testata giornalistica, tu hai Informa, che è fondamentale in questo senso. È uno dei canali di comunicazione. Quando dico io comunicazione multicanale vuol dire la carta, vuol dire bilancio sociali, bilancio di sostenibilità, comunicazione su un sito, comunicazione sull'app, comunicazione col giornale. La mission della regione, no? Rivisitare il piano normativo. Se deve essere cambiamento, il cambiamento non partire da una ridefinizione, da un disegnare in maniera diverso l'impianto normativo della nostra regione, e magari offrire e fornire alla nostra regione uno strumento moderno, più agile, per quanto riguarda la programmazione, in particolare, della mobilità. I cittadini, secondo lei, sono inclini al cambiamento? Beh, questa è una bella domanda. Io credo che i cittadini sono pronti al cambiamento, nella misura in cui questo cambiamento cammina sulle gambe di persone credibili, su progetti che siano credibili. Io penso, su questo tema, di poter essere ottimista. Le civiltà vanno avanti con il cambiamento. Poi, la parola più abusata in questo momento è proprio cambiamento. Parliamo di transizione ambientale, di transizione civica, di transizione digitale. Tutte queste parole hanno un significato e un senso, se poi si attuano realmente. E attuarlo vuol dire anche far partire la filovia con mezzi elettrici a zero impatto ambientale, zero inquinamento, per fare in modo che l'aggressione giornaliera delle macchine nella nostra città possa diminuire. Però è sempre difficile accettarlo, perché questi mezzi pubblici, che dovrebbero essere la soluzione dei problemi dei cittadini, molto spesso vengono interpretati dai cittadini come un problema. E quindi la comunicazione serve proprio a questo, a far capire che c'è un miglioramento in generale. Presidente Pallotta, comunicare il trasporto pubblico locale, una grande responsabilità, no? Sì, una grande responsabilità per i giornalisti, ma soprattutto una grande responsabilità per gli amministratori di queste aziende di trasporto pubblico locale. E devo dire che il Presidente di Tua ha capito, ha intuito che la comunicazione è un aspetto fondamentale per comunicare non solo agli utenti del servizio pubblico, del servizio di trasporto, ma alla cittadinanza in generale, perché il mondo in questo momento sta attraversando delle profonde trasformazioni, innovazioni. Adesso, intanto, complimenti per questo progetto editoriale. Quali sono gli obiettivi? Grazie per i complimenti. Insomma, gli obiettivi sono di aprire un canale diretto di comunicazione con i nostri vari target. Tu è in forma, si pone questo obiettivo strategico, vuole raccontare le buone pratiche di Tua. Molto importante, per esempio, per me, anche la valorizzazione del territorio che abbiamo iniziato a fare invitando la gente ad utilizzare i mezzi pubblici per visitare le bellezze del nostro Abruzzo. Per esempio, c'è un articolo in questo numero, molto bello, sui binari di Celestino V, che invito a leggere e soprattutto invito a percorrere romanticamente con un nostro treno, la tratta da Sulmona all'Aquila, che è molto coinvolgente ed empatica da questo punto di vista. Questi sono gli obiettivi. Speriamo di riuscirci. La buona volontà c'è in un mondo in continua evoluzione come quello della comunicazione. Il caso Urbino è un po' particolare perché questa azienda, nel 2005, diventa consorziata di Adreabus, che è l'azienda che vince poi la gara regionale del trasporto pubblico. E quindi il mio caso è la crescita che ha avuto il brand Adreabus da tanti brand che eravamo come AMI e tanti piccoli privati a quello che poi diventa Adreabus, la grande azienda provinciale della regione Marche e della provincia di Pesaro Urbino. Dobbiamo puntare attraverso la brandizzazione del marchio poi a capire i clienti, quindi a farli avvicinare a noi. Il cliente ci deve scegliere perché ha piacere di sceglierci e non perché è costretto a farlo. Le priorità sono sempre le stesse? Le priorità sono fondamentali e sono sempre le stesse. Il cliente va messo al centro. Noi abbiamo dovuto accrescere proprio il livello culturale degli operatori di esercizio, ma anche dei dipendenti tutti. Sono stata molto fortunata nel mio piccolo perché avevo il direttore generale che ci credeva in questa comunicazione e ha permesso appunto questo passaggio e quindi l'andare avanti. Altrimenti se non ci si crede nella comunicazione non si va avanti. Bene, intanto Presidente complimenti per la nuova testata giornalistica che è una voce in più in questo panorama informativo regionale grazie anche alla professionalità del collega Alessio Giancristofaro che la dirige per il vostro ufficio stampa. Penso che i temi siano due sostanzialmente. Il primo è quello di mettere a disposizione dell'utente, del viaggiatore, il maggior numero possibile di informazioni sulle corse, sulle opportunità, ma quello un po' più importante strategicamente e anche ecologicamente per la vita della nostra regione è quella di spingere sempre più verso l'utilizzo del mezzo pubblico. Assolutamente sì. Fra l'altro ho sentito parlare anche nelle interviste giustamente di comunicazione caratterizzata dalla multicanalità ed è questo che noi stiamo cercando di fare. Tu hai nei prossimi anni già avviato un percorso veloce che la porterà a una trasformazione ecologica e anche digitale, energetica importante ed è giusto, corretto e opportuno che queste fasi di forte cambiamento siano accompagnate da una giusta e professionale comunicazione perché gli utenti devono assolutamente sapere e conoscere le trasformazioni delle aziende e soprattutto le aziende pubbliche per capirne meglio i meccanismi, le opportunità da cogliere ed accompagnare questo cambiamento con una visione d'insieme che gli faccia dare un giudizio centrato e preciso di quello che sta facendo un'azienda pubblica. Noi abbiamo a tal proposito utilizzato tutti i canali innovativi ma tua informa nasce da un'idea diversa per completare tutti i canali di comunicazione con uno strumento che ha l'obiettivo di raggiungere anche un'utenza che ha voglia di avere una comunicazione più confidenziale da parte nostra quindi raccontare in maniera un po' più approfondita la storia di tua quello che sta preparando a favore degli utenti, come lo sta facendo e come vengono impiegati i soldi pubblici e quindi è un momento di approfondimento che i nostri clienti e utenti possono soffrire di queste notizie durante i viaggi che fanno con i nostri treni, con i nostri autobus. Si, si faceva riferimento al meraviglioso, sono d'accordo con il collega Gian Cristoforo, viaggio che uno può fare da Sulmona all'Aquila attraverso quella meravigliosa ferrovia sulla Valle dell'Aterno, ma ci sono anche gli autobus che in questa stagione turistica hanno avuto un loro successo da quelle parti. Si, come per esempio il bus dei parchi, è stato proposto a noi come idea da alcuni sindaci, l'abbiamo raccolta ben volentieri ed è stata un'azione, una forma di esercizio che ha portato a scoprire ancora di più e meglio le bellezze del nostro territorio quindi ha ottenuto un ottimo livello di successo, molte persone hanno preso questo autobus, questo pullman da Roma e sono venuti, hanno sfruttato questa occasione, col tal volo questa occasione per venire a vedere i nostri parchi nazionali, quindi questo pullman poi fra l'altro era brandizzato con gli animali caratteristici tipici dei nostri parchi nazionali, quindi è stata una proposta turistica di mobilità molto gradita, così come abbiamo poi attivato anche una linea turistica all'interno nella provincia dell'Aquila che da Pescara, quindi partiva da Roseto, San Benedetto, Pescara, entrava dentro nella Valle Aterno, quindi Fagnano e tutta la parte interna aquilana, un viaggio che è stato molto apprezzato dai turisti che hanno avuto l'opportunità di godere delle nostre bellissime zone con un turismo ecologico, con un mezzo ecologico che ha riscontrato molto successo, ha permesso loro di fermarsi nelle varie stazioni per poter poi scegliere il proseguo del viaggio nel migliore dei modi o prendendo biciclette oppure canoe, insomma abbiamo organizzato un viaggio che è stato, ha avuto molto successo perché permetteva di effettuare un turismo all'interno in maniera assolutamente nuova. Presidente, prima di salutarci, l'ultimo tema che è quello che è stato affrontato anche dal sindaco Carlo Masci, noi ci eravamo lasciati prima della sentenza del Consiglio di Stato sulla filovia riguardante il tracciato della strada Parco, ora ci sono stati gli sviluppi, lei era stato molto prudente circa quello che poteva essere l'esito e comunque la tua ha mantenuto un atteggiamento di attesa, adesso però avete anche un cronoprogramma pronto per attivare il servizio. A che punto siamo, visto che ormai siamo praticamente all'inizio di ottobre? Sì, la sentenza ha riconosciuto la valenza di questo progetto, tra l'altro caratterizzandone e anche la valenza ecologica e sociale dello stesso. Noi adesso in aderenza alla sentenza dobbiamo apportare alcuni aggiustamenti sul tracciato, abbiamo già riaperto il cantiere e una volta effettuate tutte le piccole modifiche che vanno apportate seguendo le indicazioni della sentenza del Consiglio di Stato, poi saremo al secondo step, cioè la verifica da parte della sfisa che è l'agenzia che controlla e gestisce la sicurezza nazionale dei trasporti filoviari e ferroviari e quindi a seguito di questo ulteriore step i filobus saranno pronti per esercitare l'attività per cui sono stati predisposti. È chiaro che sulla filovia sono tanti anni che si dibatte intorno a questo progetto, ma al fine credo che i numeri parleranno da soli, saremo in grado di spostare circa 400 mila chilometri l'anno dalla gomma verso il mezzo che viaggia sul circuito protetto con energia elettrica, quindi meno consumo, meno inquinamento, un traffico veicolare più veloce, più moderno e più adeguato a una città grande come Grande e Pescara, ma che si appresta a diventare ancora più grande con esigenze diverse. Prima corsa entro la fine dell'anno, inizia l'anno nuovo? Ma questo non dipende tanto da noi perché noi entro la fine dell'anno, anzi qualche mese prima saremo sicuramente riusciti a mettere a posto la parte tecnica, poi siamo rimasti in attesa appunto dell'okè della sfisa, diciamo che entro la fine dell'anno sicuramente i filobus potranno effettuare i primi test di prova. Benissimo, io la ringrazio Presidente, naturalmente vedremo insieme in azione i nuovi mezzi, è comunque un passaggio importante che continueremo a documentare con la nostra emittente, perché ricordiamo, comunicazione abbiamo parlato tanto in questa trasmissione, è importante anche farla attraverso, oltre che sui nuovi media, Rete 8 ovviamente è ampiamente sviluppata da questo punto di vista anche con i propri canali social, anche attraverso la comunicazione tradizionale in televisione che è quella che noi facciamo ai nostri telespettatori per poi parlare in generale di come si sviluppa e soprattutto di quali opportunità offrono i servizi pubblici in questa Regione. Grazie ancora per la disponibilità. Grazie a voi, sempre per la disponibilità e l'attenzione che ci riservate. Grazie. Arrivederci e buona sera. Salute ai telespettatori.